Anche se non siamo più in maggio, nel mese di maggio, dedicato alla Santa Vergine Maria, noi continuiamo con la nostra devozione alla Santa Vergine Maria. È vero che siamo nel mese di giugno e è un mese tradizionalmente dedicato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ma vedete, quando si ama la mamma, il figlio è felice, Gesù è felice che noi amiamo, onoriamo e sempre più cerchiamo di conoscere la nostra mamma del cielo, la Santa Vergine Maria, corredentrice con lei che ci ha donato il Redentore e che con lui ha partecipato all'opera della redenzione. Siamo alla pagina 44 del libro di Don Ferdinando. La Madonna racconta le confidentie della Vergine Maria ai suoi figli e siamo all'incontro con Elisabetta. Ed è bello vedere come la grazia di Dio ci faccia veramente uomini, ci faccia veramente donne. Che cos'è che ci rende immaturi? Vedete il mondo che è stolto perché non ha Dio, non ha la grazia di Dio, non ha lo Spirito Santo, perché segue la mentalità del mondo, la mentalità del successo, del piacere, del potere, di tutti i sette vizi capitali? Ecco, non capisce che cos'è la vera maturità e non capisce ad esempio che so che i tre pastorelli di Fatima avevano una maturità, una santità, una maturità anche umana, grazie alla grazia di Dio che superava di gran lunga anche la maturità degli ecclesiastici del tempo che non avevano capito niente, non tutti evidentemente ma buona parte di loro. La Vergine Maria dice sì a Dio, dice sì all'angelo e in lei comincia a esistere Gesù nel suo corpo. Da ragazza poco più che adolescente mi scoprì improvvisamente donna. L'educazione e la formazione che avevo ricevuto e soprattutto in famiglia avevano messo delle solide basi alla mia giovane età. Aveva 16 anni, una madonna, non è che fosse una trentenne, ma la maturità che si era realizzata in me dopo quell'incontro aveva un contenuto, un valore completamente diverso. Vedete l'incontro con Dio, l'incontro con la grazia di Dio trasforma l'uomo, rende profeti anche dei giovani, rende santi delle persone che sono deboli. È una maturità che non è solo fisica e corporea ma anche psicologica e soprattutto spirituale perché non dimentichiamo che il corpo lo lasciamo qua ed è lo spirito quello che si deve elevare. Dio è spirito, lo spirito santo è l'amore di Dio. Se noi coltiviamo le cose dello spirito anche il nostro corpo si spiritualizza come sarà in paradiso peraltro. Una responsabilità mi investe che esige prudenza, capacità di valutazione, valutazione critica, senso pratico e criteri di comportamento non improvvisati in una parola saggezza. Ecco quello che ti dà lo Spirito Santo. Ho così constatato quanto la fede aiuti la nostra intelligenza e quanto la grazia aiuti la volontà ad agire rettamente e dominare i nostri moti disordinati della sensibilità. La nostra sensibilità. Ma io mi sento di fare così. Ho capito? Ma non è che siccome tu senti allora devi dire di sì a quello che senti. Se io dovessi acconsentire a tutto quello che sento dovrei andare in giro con il cannone probabilmente e far fuori quattro quinti delle persone che incontro e fare tante altre cose brutte che non vanno bene. O dovessi seguire gli impulsi, dovessimo seguire tutti noi gli impulsi della lussuria, dovremmo fare delle cose turpi, ma vedete un conto è sentire e un altro conto è acconsentire. La sapienza, la saggezza e la grazia di Dio ci viene incontro in questo, non viene a togliere da noi la sensibilità, ma ci aiuta a accompagnare la sensibilità con un consentire a ciò che sentiamo bene e a non acconsentire a quello che la nostra sensibilità ci porterebbe a fare atti egoistici o cattivi. Molti disordinati, li chiama la Madonna. Mi senti in dovere quindi di correre immediatamente da Elisabetta a prestarle aiuto. La fede e la grazia agiscono su quello che trovano sulla nostra personalità umana. Per questo è così importante anche la nostra formazione culturale, non solamente spirituale. Vedete, certi pensano ah ma basta che io preghi il rosario, ho il cancro, prega rosario e si risolve tutto. No, vai dal medico. Ho un problema psichiatrico, psicologico, prega rosario, prega la Madonna, vai a Fatima, Meggiugoria e risolvi tutto. No, se hai un problema psichiatrico devi andare dal psichiatra, se hai un problema neurologico devi andare dal neurologo, se hai un problema ai calli puoi dire tutti i rosari che ti pare, ma i calli ti rimangono e quindi vai da quello che si occupa dei calli. Poi ovvio non vuol dire che dobbiamo marginalizzare la dimensione spirituale, anzi è quella più importante, ma le qualità spirituali si appoggiano sulle qualità umane, quindi dobbiamo, è nostro dovere coltivare anche le nostre virtù umane, le nostre conoscenze umane anche per confutare quelli che con una capacità di parlare, di convincere, di imbrogliare le carte, ci fanno vergognare della nostra fede. E quindi la cultura non è una cosa di secondo ordine, anche per chi di voi è ignorante. Fatevi una cultura, non vuol dire andare a studiare all'università, leggete dei buoni libri, comprate i libri di fede e cultura, ascoltate questi video quando possibile, ma soprattutto leggete i miei libri, non i miei libri, i libri, anche io ne ho scritti tre, vabbè, ma leggete i libri di fede e cultura, libri che formino culturalmente e spiritualmente insieme. Se siamo un legno di buona qualità, senza caricature o nodosità che oppongano resistenza, il Signore, con la sua luce e la sua grazia, può ricavare da noi una scultura sempre più vicina al modello di Gesù. Gesù è il nostro modello, l'imitazione di Cristo. C'è un'opera meravigliosa che vi consiglio di leggere e rileggere, l'imitazione di Cristo. Vuoi essere santo? Vuoi essere felice? Fai come Cristo. Nella ma io ho la mia personalità. Tu manchi di personalità quando vai contro la chiamata dello Spirito Santo, contro l'imitazione di quel modello di perfetta umanità che è Gesù Cristo. Vedi, la tua età, cosa sei? Sei troppo vecchio? Ah ma sono troppo vecchio per seguire il Signore. Ah ma ormai sono troppo invecchiato nelle mie cose, non ce la faccio più. Non hai capito? Proprio una fava. La tua età non è data dagli anni. Sono troppo giovane. No, no, quando sarò più grande allora sì, sarò più maturo. No, no, non hai capito niente. La tua età non è data dagli anni, ma dalla maturità umana e spirituale che con l'aiuto di Dio ti sarai acquistato. Allora c'è una maturità umana e spirituale e quella spirituale fa crescere anche quella umana enormemente. Trasforma dei bambini di sette anni, i pastorelli di Fatima, in sapienti enormemente superiori al vescovo locale, al preti, al sindaco, a tutta la ciurma di gente che c'era l'intorno. Un segno della vera maturità è la capacità. Cos'è che mi fa vedere che se sono maturo o non sono maturo? Questa è una cosa che mi richiama anche me, che mi spinge a volare un pochino alto, come spesso dico con il barone rosso, il focker del barone rosso, invece che guardare alle mie piccole cosette. Che cos'è che dimostra se sono maturo o meno? Cosa te lo dimostra a te? Eccolo qui, la disponibilità, la capacità di uscire da te stesso e renderti disponibile per le necessità del prossimo, soprattutto di chi ti vive accanto. Ed è proprio quello che quante volte noi facciamo una fatica enorme a fare. E allora vuol dire che non è vero che siamo maturi, ma ho 70 anni. Non sei maturo, mi spiace, sei ancora meno che un adolescente. I bambini esultarono di gioia nel grembo, ma anche nel nostro animo, in questo incontro paradisiaco che è stato quello fra la Madonna e Santa Elisabetta. Elisabetta riconobbe in me la madre del Signore, diede l'ode a Dio e io non potei trattenere l'onda dei sentimenti che lo Spirito Santo fece sgorgare nel mio cuore. E a quel cantico meraviglioso, durante poi tutte le generazioni mi chiameranno beata perché il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva e ha fatto grandi cose in me. Ecco, lo stesso vuole fare con te, lo stesso vuole fare con me, con ciascuno di noi. Figlio mio, dice la Madonna, lascia che il Signore compia in te le sue meraviglie. È Lui che deve fare in te le sue meraviglie. Non sei tu che ti devi sforzare con i tuoi impugni. Quante volte sui nostri pugni, sulla nostra forza, sulla nostra forza di volontà abbiamo conquistato qualche cosa che alla fine ci ha fatto solo del male. Pensate ai grandi ricchi. Una vita dedicata a fare quattrini e poi la loro vita è felice, la loro vita è infelice, la loro vita è un inferno, perché sono diventati schiavi delle loro ricchezze, dei loro beni, che se a un certo punto non sono disposti a far fruttare per la vita eterna rischiano di essere quella zavorra che li porta all'inferno. Se invece riescono a trasformare le ricchezze di questa terra in beni per l'eternità allora è un'altra cosa ed è possibile anche questo ovviamente con la grazia di Dio. Ma dobbiamo lasciare, vedete, il cristianesimo è facile, basta mollare, basta renderci davanti a dire, dire Dio sì, fai quello che vuoi. Io ho fatto tante cose, ho fatto un sacco di vaccate. Fai tu, lascia, compi tu l'opera che vuoi nella mia vita. Io mi abbandono in te, Padre mi abbandono in te, la bellissima preghiera di Charles de Foucault. Fai in modo che gli impulsi dello Spirito Santo non incontrino resistenze nel tuo cuore, le tue idee. Ma io vorrei, quante volte, ma io, ma io, metti da parte quello. Lascia, abbandonati, abbandona, ma le cose non dovrebbero andare così. Pazienza, lascia, lascia. Dio è più grande, Dio la fa anche ai cattivi. Oggi poi quei che sembrano che abbiano lo strapotere vi dicono, ma lascia, lascia nelle mani di Dio, tu offri, soffri, li lascia che vada come va. E tu invece metti te stesso la tua volontà, la tua accettazione nelle mani di Dio. La gioia di Dio inonderà la tua anima e la gioia di Dio ce l'ha portata Gesù. Accogli Gesù attraverso Maria e vedrai che la tua vita cambierà.